Martedì 3 ottobre, buongiorno e ben ritrovati, puntuali come sempre per la nostra rassegna la stampa del mattino, siamo qui anche oggi per vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola per dare un'occhiata alle prime pagine e attraverso queste scoprire quali sono gli argomenti principali i temi caldi di questa giornata, di questo martedì. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano La Sicilia, anche oggi una ricchissima prima pagina, tra le altre cose ad esempio si parla anche di questo, il titolo è La Cura, il Nobel per la medicina a due ricercatori che con la loro scoperta hanno facilitato il vaccino contro il Covid. Ma il tema migranti tiene banco stamane su diverse prime pagine, su diversi quotidiani, governo giudici scontro totale, toga nel mirino, il caso Catania, Giorgia Meloni basita dall'ordinanza, la replica questione di diritto non personale, si parla appunto di migranti, questo il tema centrale di quest'ultimo ennesimo scontro. Il retroscena, associazione nazionale magistrati e consiglio superiore della magistratura compatti, assurdo il gossip sui magistrati, autonomia a rischio. E a proposito sempre di migranti, l'altro fronte, scrive la Sicilia, Berlino Roma si allenta la tensione, possibile compromesso sui migranti. Audizione shock in antimafia, Borsellino isolato in procura voleva il suo capo in carcere. E poi notizia dal messinese Furcisicolo, ex poliziotto ucciso, il killer si consegna, si tratta di un delitto maturato nella sfera privata. Il monito di Mattarella, Mattarella tutore del servizio sanitario, sistema da adeguare e da difendere, ha dichiarato il capo dello Stato. E poi si parla anche di lavoro, il Sud continua a perdere risorse, in agosto aumenta l'occupazione. In taglio alto le condizioni di salute di Fedez, che resta ancora ricoverato in ospedale. Secondo i medici, le sue dimissioni non sarebbero imminenti. Giro delle città, pedina la sua ex e lei lo fa arrestare, è successo a Catania, sempre a Catania, Trantino a San Berillo, via Caramba riaprirà, dichiarato il sindaco. Scordia in auto trasportava 4 kg di marijuana e poi notizia data a Ormina, appalti pubblici intesa tra comune e guardia di finanza. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, vediamo cosa ci propone in prima pagina il giornale di Sicilia. Si parla proprio di questo scontro tra, vedete, governo e giudici. Alta tensione, scrive Titola, o meglio il giornale di Sicilia, le critiche della Meloni alla sentenza di Catania contro i migranti trattenuti scatenano la difesa d'ufficio di togati e opposizioni. Intanto il nuovo centro appena aperto a Pozzallo si svuota. La replica alla Meloni, una questione giuridica, non un problema personale, queste le parole del magistrato. E poi, rifiuti, i nuovi limiti bloccano i piani, lira di sindaci e industriali, con Schifani, vedete, che convoca l'assessore. L'avvertenza, invece, schiarita sul contratto, convocati i sindacati e poi le parole del vescovo di Catania, Monsignor Renna, che dice la politica abbandoni le clientele. Stoccolma, Nobel agli scienziati del vaccino anti-covid, li vedete appunto in questa immagine. E poi Borsellino voleva far arrestare Gianmanco, queste le parole dell'avvocato. A proposito di mafia, si è pentito Terranova, l'ex reggente di Villabate e poi agguato ieri a Furcisiculo nel Messinese, pensionato ucciso, l'assassino poi si costituisce alle forze dell'ordine. Il calcio con il Palermo, una vera e propria cooperativa del gol, sono già dieci i marcatori diversi, record nel calcio, in questo caso scrive il giornale di Sicilia e poi vedete le condizioni di Fedez ricoverato a Milano per le emorragie nuovamente in sala operatoria. Mattarella, il servizio sanitario in Italia è un patrimonio prezioso da difendere e aggiornare le parole del Capo dello Stato al Festival delle Regioni a Torino. Restiamo in Sicilia, lo facciamo con l'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica che apre con un tragico ricordo sangue nostrum, questo è il titolo, Lampedusa dieci anni dopo, andiamo nel dettaglio, lacrime, rabbia e nessun ministro all'anniversario del naufragio che il 3 ottobre del 2013 fece 368 vittime. Il monito di un superstite smettete di far morire la gente, salvate tutti e queste sono immagini ovviamente che restano negli occhi, nella memoria di tutti, di coloro che hanno visto, vissuto questa terribile tragedia del mare. La storia, i migranti liberati dal giudice al centro dello scontro tra governo e magistrati lasciano Pozzallo, abbiamo bisogno di cure e assicurano non faremo sciocchezze. Altre notizie in prima pagina su Repubblica Palermo, la falsa partenza del carrello tricolore, niente sconti nei market, questo è un vero blef. E poi scuola impossibile a Villabate, bambini a lezioni, nello scantinato, bufera invece a Messina, un esposto denuncia i rimborsi d'oro al rettore, chiaramente si parla di università. Scandalo invece scrive Repubblica, super autobotte, tute e guanti mai usati, il garage degli sprechi dell'armata antiroghi. E infine allo Sperone, a Palermo, Cesare Cremonini consegna il campetto. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo però sulla Repubblica, l'edizione nazionale, si parla tra le altre cose di sanità con il governo, vedete che finisce sotto accusa. Nella Nadef tagli per 2 miliardi, i governatori delle regioni lanciano l'allarme, Zaia dice una questione di civiltà. Monito di Mattarella, il servizio sanitario è un patrimonio prezioso e da difendere. Un italiano su tre paga, visite e analisi, mentre Giorgia Meloni attacca la magistrata di Catania sui migranti, dice la Premier, aiuta l'illegalità. Gli scienziati invece che salvarono il mondo, li vedete in questa foto, il Nobel per la medicina caricò e Weisman per i vaccini anti-Covid. Lasciamo Repubblica, il Corriere della Sera parla invece ancora di emergenza migranti, sbarchi, si tratta con Berlino, contatti dopo lo scontro con la Germania sulle ONG, vedete rivedere i sussidi ai migranti nell'Unione Europea. Insomma si tenta di ricucire questo strappo appunto tra Germania e Italia. Mentre Giorgia Meloni dice di essere basita dalla sentenza di Catania, la giudice però replica, non si tratta, vedete, di qualcosa di personale. Dalla Corriere della Sera alla prima pagina del quotidiano La Stampa, anche qui il tema di riferimento è lo stesso, CPR Meloni sfide giudici, qualcuno rema contro, ha dichiarato la Premier a proposito della sentenza di Catania, sono basita lo stupore del Colle. Palazzo Chigi duro con la magistrata che ha liberato i quattro migranti a Pozzallo. E poi altre notizie, Nobel C-Vax, Caricò e Wesman premiati per gli studi sul Covid, Mr. Fake invece è Elon Musk, i tweet di Musk contro Ucraina e vaccini. Proseguiamo con la nostra rassegna, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme, questa ad esempio è la prima pagina del quotidiano Il Giornale che apre con questa notizia e questo argomento, governo contro Gufi 4 a 0, schiaffo ai catastrofisti, l'Italia si fida, il BTP valore raccoglie subito 4,6 miliardi, anche i mercati ci credono, lo spread cala a 188 punti, disoccupazione mai così bassa da 14 anni e al 7,3%, evasori fiscali e sommerso continuano a diminuire. E ancora l'abbraccio di Papa Francesco al No Global tassista di migranti, Casarini invitato al sinodo e poi la notizia di giornata, vedete Toghe Shock raccolta firme contro Giorgia Meloni, si parla di giustizia e immigrazione, la premiera critica la sentenza di Catania, associazione nazionale magistrati e giudici sulle barricate. Andiamo avanti, ecco il messaggero, pensione donna già a 64 anni, il governo lavora a un ulteriore scivolo per anticipare l'uscita delle lavoratrici, quota 84, a segno ridotto ma con soli 20 anni di contributi, tredicesime, slitta invece la detassazione. Dalla messaggero al quotidiano il tempo che parla di una crescita continua, vedete, della nostra nazione, salva danaio Italia, questo è il titolo, i cittadini investono nel paese, in un giorno sottoscrivono 4,7 miliardi di BTP, confermata la fiducia nelle scelte dell'esecutivo a dispetto dei complottisti. Dati positivi anche dall'Istat, disoccupazione scesa al 7,3% e il dato più basso da 14 anni. L'alternativa invece non sarebbe eventualmente un governo tecnico, scrive il tempo, ma eventualmente, vedete, si andrebbe nuovamente al voto. Mentre per quanto riguarda questa ennesima battaglia o scontro, chiamiamolo come vogliamo, tra il governo e i giudici, vedete, c'è chi favorisce i migranti illegali, attacco del premier alla giudice di Catania, Salvini replica, se una toga sbaglia va punita. Lasciamo anche il quotidiano il tempo, andiamo a vedere cosa ci propone in prima pagina della quotidiano la nazione, vedete, si parla ancora di questo scontro tra governo e giudici a proposito di migranti, il governo contro i giudici, titola la nazione, dopo la sentenza che vieta di trattenere i profughi, Meloni attacca, un pezzo d'Italia favorisce gli illegali. L'associazione nazionale magistrati difende il giudice, per il PD e l'anticamera dell'eversione i costituzionalisti dicono cambiare le norme europee, il politologo Orsina invece è premier sotto assedio, ma non rischia queste le sue parole, o meglio il suo pensiero. E poi lo sport, il grande salto, la ginnasta Biles dal blocco mentale alla storica impresa, finora il carpiato Yurchenko era riuscito solo agli uomini, ma siamo al cospetto di una grandissima campionessa, una super atleta, la 26enne Biles. Dunque complimenti a lei. Dalla nazione al quotidiano libero, il PD, e questa è la notizia di apertura, raccoglie firme per darci più migranti, sinistra senza frontiere, petizione DEM, asilo politico a chi cerca benessere, Meloni contro la magistratura che apre i clandestini, Berlino intanto chiude, Stenmayer limite agli ingressi. E poi il Papa apre, in questo caso scordatevi il matrimonio, il Papa si riferisce ai gay, Papa che riduce con i conservatori, queste vedete le parole in questo caso di Vian intervistato dal quotidiano libero. E poi ultrasinistra, i nuovi mostri di Santoro, da De Magistris a Laurito, insomma questa stoccata da parte di Libero sono in questo caso Marisa Laurito, Fiorella Mannoia, Vauro e poi Valeria Golino, Luigi De Magistris e Massimo Cacciari. Parliamo di sport perché si è chiuso l'ultimo turno di campionato, si apre però il turno infrasettimanale europeo con le italiane impegnate in Champions Europa e Conference League, si comincia dalla Champions League, oggi due italiane in campo, la Gazzetta dello Sport apre, vedete, con l'Inter, la mia Inter è europea, questo ha dichiarato in Zaghi, in Zaghi in vista della sfida con la Benfica e si tratta di una risposta ad Arrigo Sacchi. Il tecnico, per Sacchi non siamo da Coppa, abbiamo idee diverse, ma l'ex Cittilo in calza deve pressare di più. E poi il Napoli, come si batte Carletto, ex di turno, oggi grande sfida al Maradona appunto tra Napoli e Real Madrid, Rudy Garcia con Osimene e Kvarascheli, Ancelotti con Vinicius e Bellingham, che show, sarà davvero una grande partita. Occhio invece al Milan, domani di scena al Dortmund, credete nel diavolo, gioco, panchina, nuove stelle, Pioli si è messo il derby alle spalle, come detto domani i rossoneri saranno di scena a Dortmund contro il Borussia. Dalla Gazzetta alla Corriere dello Sport, che invece accende i riflettori proprio sulla sfida del Maradona tra Napoli e Real Madrid, la volta buona, questo il titolo, tutto il mondo guarda la sfida del Maradona, il Napoli va a caccia della prima vittoria con il Real Madrid, Inter invece all'esame Benfica con Di Maria che torna dunque in Italia dopo l'esperienza alla Juve, ma lo fa con la maglia della Benfica e sfida appunto l'Inter a San Siro. Tutto Sport invece dedica spazio alla Juve e a Vlaovic, un Vlaovic a tutti i costi, chiaramente si cerca di recuperare Vlaovic, vedete in vista del derby così la Juve lo gestirà per permettergli poi di essere in campo nel big match contro il Torino. Dopo il forfè di Bergamo, allenamenti mirati per la Lombalgia, il serbo rimette il toro nel Mirino, Bremer recupera, Milik torna in campo, il papà spinge McKennie a centrocampo, dunque Juve che chiaramente non è impegnata nelle coppe, dunque ha tutto il tempo per prepararsi per la prossima sfida di campionato. Noi intanto ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa odierna, abbiamo fatto e concluso anche oggi il nostro giro delle prime pagine, adesso partiamo a breve con le nostre edizioni di Spazio Notizia per tenervi aggiornati lungo tutta questa giornata e allora anche oggi l'invito non cambia, rimanete con noi, a più tardi. Grazie per la visione!